Sicuramente sapevamo che loro avrebbero affrontato la partita con tenacia, con grinta e dato il tutto per tutto, come fanno sempre, ancor più in casa loro. Certo, dopo una sconfitta un po' di rammarico c'è sempre, soprattutto quando perdi così, una partita tirata. Sicuramente è stata in bilico fino all'ultimo e quella è la cosa che ci pesa di più, perché abbiamo avuto, come hai detto giustamente tu, le occasioni anche per affondare il colpo. Non ci siamo riusciti e l'hanno affondato loro uno a uno. In realtà probabilmente non ci sono errori di approccio o tattici macroscopici nella sconfitta di Cassano Magnaco. Hanno deciso gli episodi, come è giusto che sia in partite così equilibrate? Sì, 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 certo. Una partita di alto livello dove si scontrano oltre che i giocatori in campo, anche gli allenatori in panchina con schemi, difese, cambi. Quindi i dettagli decidono. Oggi i propri dettagli hanno deciso, soprattutto i due minuti e mezzo, tre minuti finali sono stati quelli che hanno deciso la partita. Quindi onore e merito a loro, ma appunto abbiamo perso una battaglia a mano alla guerra. Appunto, uno a uno, un venerdì di mezzo per riordinare le idee, recuperare un pochino di energie e sarà un'altra battaglia. Sicuramente, sicuramente noi oggi avevamo l'occasione di chiudere la serie, non ci siamo riusciti e abbiamo la fortuna di avere un'altra occasione. Sarà un'altra battaglia all'ultimo sangue e cercheremo di riposare, di concentrarci al meglio e cercare di portare a casa il risultato pieno con una bella partita come penso sia stata quella di oggi. Bruno, reazione doveva essere e in termini di punteggio reazione è stata, anche se Cassano Magnago è venuto qua senza paura. E forse un altro po' di paura ve l'ha messa nel corso della partita? Guarda, io devo fare solo i complimenti a questa squadra giovane che gioca una gran bella palamano, non mollano mai. Eravamo più 5, più 6 se non sbaglio e non hanno mollato, ci hanno creduto. Noi siamo calati nel secondo tempo, con un pizzico di esperienza in più siamo riusciti a trattenere quei due gol che ci hanno permesso di vincere questa partita. Ecco, probabilmente è stata quella la chiave di volta, un pizzico di esperienza in più di questo Bolzano che ne ha tanta effettivamente, soprattutto rispetto a una squadra così giovane. Sicuramente, esperienza, non stiamo giocando benissimo, non stiamo giocando come in Coppa Italia, dobbiamo riprendere un po' quella forma. Però sai, la palamano è così, le semifinali sono scudetto, il Cassano non è arrivato qua per caso, è un'ottima squadra, lo sta dimostrando. Adesso c'è gara 3, vediamo, sarà una bellissima partita. Uno a uno, e dicevo alla Mendola, c'è di mezzo solo un venerdì per riordinare le idee, rimettere un po' a posto il fisico e poi sarà davvero una battaglia. Forse voi avete un leggero vantaggio di giocarvela in casa. Sì, non abbiamo il viaggio di mezzo che è una cosa ottima, però abbiamo questo giorno, per pensare ancora agli errori che abbiamo fatto, ancora troppi tiri sbagliati dai 6 metri. Però ripeto, è una partita apertissima e speriamo di fare bene.